Proprio per l'alto valore simbolico della cultura come luogo privilegiato di dialogo tra le nostre civiltà millenarie e in vista del prossimo anno della cultura e del turismo Italia-Cina abbiamo deciso di organizzare qui la prima esposizione di Cantica 21. Vi auguro dunque di incamminarvi in questo percorso di suggestive visioni e di simboli per tornare, come disse il sommo poeta, a rivedere le stelle. Grazie per l'alto valore simbolico della cultura. Grazie per l'alto valore simbolico della cultura. Il progetto è un esempio di un esempio di un antico dialogo fra la civiltà cinese. È un progetto che si è concretizzato grazie al Pearl Art Museum e all'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai che è il Consolato Generale d'Italia a Shanghai. Vi è anche un'introduzione alla mostra che è rappresentata dallo Studium Treccani dove esponiamo quattro fra i più belli manoscritti della tradizione dantesca. I cinque artisti che sono qui esposti hanno dedicato le loro opere a Dante e si sono lasciati ispirare dalle tre cantiche della Divina Commedia. L'inferno, il purgatorio e il paradiso. Ciacco è il carattere che Dante mette nel terzo circuito dedicato a gluttony dance. E i sinni sono fatti da un'antilante rai e al stesso tempo Cerbero prende l'amore di loro. La vita è niente più che un processo di metamorfosi intraspecifiche, ogni specie di metamorfosi del precedente. La immagine di un'antilante rai e l'unica di un'antilante rai e l'unica di un'antilante rai. La immagine di un'antilante rai e l'unica di un'antilante rai. La immagine di un'antilante rai e le numeri di cui si sono rai. A parte di questa struttura, ci sono le nostre nuove forze, che sono iniziando a tornare la palla di ruine. C'è un'antilante rai e l'unica di un'antilante rai. Rai e l'antilante rai e le mie di un'antilante rai. La immagine di un'antilante rai e l'antilante rai e il mostro inattimento del percorso di Kifa. Grazie a tutti i nostri ammatori. In scolpiti i varii di un'antilante rai e il fattore del percorso di Kifa. Quello che il patiento con il tuo carico della immagine di Rai e il nostro figlio di Rai e il nostro comino. Quindi questo è un'unico molto speciale per la scuola e la scuola e la scuola e la scuola con la scuola e la scuola con la scuola e la scuola e la scuola il libro del poteo Il libro del poteo è stato un libro dal libro del poteo qui pensi come se è un po' di via la città e poi non è un po' di via la città Non di quello che abbiamo trovato non è un po' di rinco non è un po' di più E' un po' di più è un po' di più i suoi di ieri sono un po' di più la città è un po' di più e anche con la nostra storia. La storia non è una storia reale, ma è fondamentale. Quindi, attraverso la storia delle cose, in questo modo, la storia della storia. Quindi, questo è un punto molto interessante. è stato un po' di più di più di più di più di più di più di più. ha portato poco ha quería ha giocato è stato un luogo questo è il luogo con i quali puntuali o anche egli apriamo o anche io io penso che per questo omanno è una ruota è una ruota ad esempio è un luogo è una ruota aperto lo scuola è un' luce è essendo dal omanno e questo è un luogo è un museo di un gruppo buildupo ē Il dato di un'ottor necessario di persona che suonasse questo tipo di programming, per mio pensare di un'ottorанchen. Si, in questo caso, si sono un'ottor initializzazione, di un'ottormento che non è una grande storia. Cerco di un'ottormento che sono arrivati a Cookies. è un'ottormento che mi ha deciso di prendere il sonore in un'ottormento, Ma quando scogging atreveglie il suo corso, la bambina della sua vita in cui la animazione della sua vita si è stato un problema a tutti gli animi in cui alla sua vita potrebbe essere più importante Il mondo di tutti i animi sono stati che c'è a un'accento a un'accento a un'accento a un'accento a un'accento a un'accento a una piaccia e l'accento in quanto riguarda all'accento alla fine a un'accento in un'accento si è in questo空, ma non sovrapposte, ma non sovrapposte.